buongiorno ma lei che cosa ha visto solo questo? io stavo fermo al semaforo perché era rosso il mio ho visto solo che lui arrivava e andava addosso a Trump lui chi? immobile è rosso il semaforo? dicono che lì è un altro semaforo non ci ho capito niente ma chi ha visto che passava? io ho visto arrivare una macchina che veniva per così e il tram che attraversava ma chi ci aveva il rosso? io ci avevo il rosso però dice che lì in semaforo scatta prima quello del tram per far passare il tram ma non so che dite ma come spiegava non ci ho capito niente ma come stai conducendo il tram? lei l'ha visto questo? ho visto per te l'ho visto che sballuttava dentro la cabina c'era molta gente nel tram? sì sì c'era gente sul tram c'era sì c'era gente sul tram ciao 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 Grazie a tutti.